Diamo via alla nostra conferenza di presentazione alla stampa della mostra Amazonia, fotografia di Sebastiao Salgado, protagoniste degli ambienti della nostra fabbrica del Vapore, una mostra a cura di Leia Juanic Salgado che insieme a Sebastiao Salgarli ringrazierei con un applauso di accoglienza. Permettetemi, poi una nota anche per quanto riguarda l'allestimento, cara Leia, di questa bellissima mostra, è una curatela profonda, attenta, di chi conosce ovviamente in profondità il lavoro di Sebastiao Salgado, ma è solo una curatela, un allestimento inediti per Milano per la fabbrica del Vapore, entrare nel corpo centrale della cattedrale, della fabbrica e vedere questa infilata di immagini che abitano questi spazi, riempiono in maniera così armonica uno spazio difficilissimo. Io da assessore, e ancora prima di fare l'assessore ci ho lavorato tanto su fabbricare il Vapore, ma è sempre molto complesso portare le mostre all'interno di un ambiente, di un volume così ampio e così affascinante. Le immagini di Salgado veramente aprono gli occhi, aprendo gli occhi aprono un cuore. L'allestimento è curato appunto da Leia con una maestria incredibile che rende veramente la fabbrica del Vapore una distesa, una distesa come vi ho detto di emozioni, una distesa di immagini, una distesa di riferimenti a un mondo che ci appartiene, ma al quale noi soprattutto apparteniamo. Quindi io ritorno in questa dimensione magica, in questa dimensione meravigliosa, questo viaggio dentro l'Amazzonia, che è un viaggio però dentro anche tutti i problemi che porta l'Amazzonia, dietro quella archeologia dell'umanità che ancora è conservata nelle sue più profonde con segreti di dimensioni spaziali. C'è spiegato anche tutto il progetto di riforestazione che c'è in Brasile e che sta andando avanti in una maniera incredibile e soprattutto che può avvalersi di un'azione continua, senza pause assolutamente, da parte di Sebastiao e Leia con l'Istituto Terra, ma soprattutto con la volontà di far partecipare tante persone, tantissime persone a un sogno individuale che è diventato un sogno collettivo, l'idea di vivere in un mondo di armonia, che non è una cosa che si può dire così. 50.000 km2 sono quelli stritti sin dal 2002 all'UNESCO nella vista del patrimonio mondiale dell'umanità, ma in realtà quando parliamo di Amazonia parliamo di una foresta di oltre 6 milioni di km2 più 9 stati. Per trarre un paragone, l'Unione Europea conta 4 milioni di km2, quindi stiamo parlando di un continente. Noi abbiamo scelto di accompagnare la cultura nazionale sulla mostra Amazonia in tutto il mondo e questa mostra ha già dato modo a un milione di visitatori che hanno iniziato a vedere queste fotografie, a capire queste tematiche a Londra, dove c'è stata la prima mostra, che ha raccolto oltre 40.000 visitatori. È seguita Roma, che con grande orgoglio ha quattroplicato uno di visitatori, superando i 160.000. Dopo, dopo, c'è stata ovviamente San Paolo, che non poteva essere da meno, quindi ha quasi sfiorato i 200.000 visitatori, ma è stato niente in confronto d'Avignone, che è arrivata tra 150.000 visitatori e l'ultima è stata a Rio de Janeiro con quasi 400.000 visitatori. Quindi non voglio dare un numero su Milano, ma è chiaro che le aspettative non possono essere da meno. Volevo sapere una cosa che credo interessi tutti, cioè il rapporto intenso che tutti voi avrebbero stabilito con le popolazioni locali. Volevo fare un lavoro con celui-là. Per fare questo lavoro ci vuole molto tempo. Ci vogliono da tempo, mi ci sono voluti molti anni. E devo dire, per mettere insieme tutto il materiale per la mostra che desiderete, io ho impiegato dai 9 ai 10 anni. E io ho dovuto recarmi parecchie volte in Marconia. In modo particolare, nel periodo intercorrente, tra il 2013 e il 2019, sono stati 7 anni di lavoro molto intenso. Io ho compiuto 58 viaggi in Amazonia e ho passato in Amazonia molto molto tempo. Già il fatto che il mio progetto sia stato accettato è stata una cosa molto importante. Dovete tenere presenza, per esempio, che se un progetto di questo genere occorre per correre a delle lunghe distanze e avere tutta una serie di autorizzazioni, cioè la Fondazione Nazionale per la protezione degli indigeni che deve concedere la sua autorizzazione il Ministero di Grazie e Giustizia, deve dare la sua impedimento permesso e anche bisogna avere l'autorizzazione dei capi tribù. Poi, dopo aver avuto tutte queste autorizzazioni, uno parte a fila e non trova gli esponenti della tribù con i quali voleva parlare, perché magari si sono recati a pescare o a cacciare e allora bisogna spessarli, talvolta anche per due settimane. Dopodiché si può tornare a pescare e a cacciare con loro. È una realtà questa del mio lavoro, nel senso che si sa quando si parte, ma non si sa, infatti, quando si può uscire. Lei e io siamo stati accettati dall'alto comando dell'esercito brasiliano e quindi siamo stati in grado di viaggiare con loro e di fatto l'alto comando dell'esercito brasiliano è la sola istituzione che ha 23 sedi ufficiali nella foresta amazonica, uno per mantenere ovviamente la sovranità del paese e due anche per controllare il traffico di droga che viene dalla vicina Colombia, perché la Colombia confina con la foresta amazonica, ma viene anche dal Venezuela e dal Peru. Quindi a scopo di controllo di questo traffico di droga notevole c'è una presenza pregnante dell'esercito. Quindi noi abbiamo avuto la possibilità di volare con i loro piccoli aerei e i loro elicotteri e riuscire a scattare delle immagini inedite della foresta. Si ha generalmente la consapevolezza che la foresta amazonica sia un territorio piuttosto piatto, sottato da grandi fiumi. Non è affatto vero. Le più alte catene montuose del Brasile si trovano proprio in Amazzonia e per la prima volta noi siamo riusciti a fotografarle e quindi ci sono tutta una serie di immagini inedite a questo proposito. Poi ovviamente abbiamo avuto la possibilità anche di ritrarre i fiumi e il loro corso e quello che avviene. Insomma è stato un lavoro di 7-8 anni estremamente importante che però ha anche portato tutta una serie di informazioni scientifiche. Infatti si credeva fino a non molto tempo fa che l'umidità prodotta della foresta amazonica fosse trasportata a livello fluviale. Non è così. Sulla base degli studi che sono stati recentemente compiuti si è scoperto che è lo spazio aereo dell'Amazzonia che data la grande evaporazione e le grandi piogge che ci sono nella zona riesce attraverso il vento a portare l'umidità in una zona vastissima, addirittura copre tutto il pianeta. Se parte dell'umidità che arriva in Italia, che avete voi qui in Italia, è dovuta dall'evaporazione dell'oceano, l'Amazzonia produce un tale grado di umidità propria perché piode talmente tanto e si è stimato che ci sia una produzione pari a circa, che va da circa 1000 a 1200 litri giornalieri e poi il fatto che esistano miliardi di alberi in Amazzonia fa sì che questo flusso di umidità riesca addirittura ad arrivare in una certa misura anche in Italia e sicuramente nel resto dell'America. Questa è stata un'altra cosa che era essenziale dimostrare e che siamo riusciti a dimostrare e a mostrare grazie al fatto di poter aver avuto la possibilità di scattare delle immagini aeree. Quindi davvero è stato un lavoro di grande, grandissima benedizione che Elia e Elia abbiamo apportato. E quindi abbiamo avuto l'opportunità di voler e abbiamo avuto un'opportunità immensa di mostrare la forè attraverso la navigazione della riviera Amazonia. Quindi è stata una dedicazione che abbiamo avuto durante tutte queste anni di viaggio all'Amazzonia, Elia e un'opportunità. Mi rivolgo a tutti e due per sapere se avete avuto dei rapporti con il governo brasiliano, sia quello precedente che quello attuale e quali sono stati i vostri rapporti nei due casi. Sì, allora per essere precisa non abbiamo intrattenuto alcun rapporto con il governo precedente perché si è trattato di un governo che era votato e versato alla distruzione del paese e quindi questo non faceva assolutamente parte del nostro pensiero. Quindi non abbiamo avuto nessun tipo di rapporto. Ora con il governo attuale intratteniamo molti contatti e abbiamo sempre comunque mantenuto contatti con Lula perché questo governo è un governo che davvero pensa ai brasiliani, pensa al paese, pensa alla situazione degli indigeni e pensa alla situazione dell'ambiente. Quindi noi siamo ben contenti di intrattenere rapporti con questo governo. Però al di là di questo, appunto noi siamo andati in Amazonia con il nostro progetto, con le nostre idee e non c'è nessun tipo di legame da questo punto di vista con il governo. Io sono curiosa di un aspetto tecnico del suo lavoro di autore nella fotografia, nella gestione dell'equipment in questa umidità e la scelta di introdurre talvolta nei ritratti questi fondali neutri che forse sono estranei all'esperienza dei nativi ma in qualche modo vanno comunicati perché loro si sentono così diretti al loro agio. Quindi una scelta artistica molto precisa che mi piacerebbe che lui spiegasse se era un background, un telo, un buio, questo buio da qui emergono plasticamente questi volti molto intensi. Com'è stato loro spiegato se è stato spiegato? Grazie. Per quanto riguarda invece la scelta di fare questi ritratti come quelli che lei vede in mostra, c'è una foto speciale in mostra e quando la visiterete vi invito a guardarla, è la foto del studio portatile che io ho. È uno studio davvero grande perché ha 6 metri di larghezza quindi vuol dire più largo di tutta la prima fila e 9 metri di lunghezza e io in genere lo monto sotto gli alberi. È uno studio che si può arrotolare perché ovviamente siccome lì piove sovente io ho dei piedi di plastica per proteggerlo dall'umidità e quando piove appunto arrotoliamo tutto poi srotoliamo quando la peoggia finisce. Perché è così grande? Perché appunto quando si ha a che fare con una popolazione indigena bisogna aspettare che siano loro che vogliono venire a farsi fotografare e quindi ci sono delle occasioni in cui magari sono fuori a pesca e quando ritornano al villaggio ritornano tutti assieme e vengono da me. e quindi sono ovviamente l'unico fotografo che ha deciso di portarsi dietro uno studio diciamo portatile in Amazonia, ce ne sono stati altri prima. Però mi faceva piacere ovviamente e ritrarre gli indigeni quando per esempio insomma pesca o acaccia e allora lì non ho bisogno di uno studio ma anche ritrarli invece in una condizione di studio. Perché? Perché quando un fotografo lavora con il suo soggetto e lo scopo del lavoro è quello di fare un ritratto si crea davvero un rapporto unico tra chi fotografa e chi viene fotografato. Cioè viene portata in luce una forza veramente immensa perché in genere il soggetto si sente particolarmente importante, particolarmente onorato e quindi il fotografo deve dargli tutta l'attenzione che merita. E' solo così che si riescono a creare poi quelle immagini incredibili che si riescono a vedere. E' tutto basato sul rapporto intercorrente tra il fotografo e il suo soggetto. Ecco, per esempio per me è stato essenziale, come dice lei, creare questi sfondi neutri e le spiego perché. Perché gli indigeni generalmente sono persone per così dire molto decorate, portano dei bellissimi orecchini, sono coperti di fiori, il loro corpo o per esempio coperto di magnifiche immagini tatuate e sono comunque, se ritratti nel mezzo della foresta assolutamente ben camuffati e quindi è molto difficile dissociarli dal resto dell'ambiente circostante. Invece se uno li fotografa con uno sfondo neutro, beh si mostra tutta la loro potenza, tutta l'importanza della loro cultura che ovviamente si portano dietro nel loro corpo. E quindi è per questo che diciamo io ho deciso di ritrarli in uno studio con uno sfondo neutro. C'è stato un altro fotografo che si è occupato di fotografare moltissimi indiani d'America e ci sono moltissime immagini molto potenti e io ho cercato un pochino di fare la stessa cosa. Poi ho deciso di avere uno studio di dimensioni notevoli perché in questo studio io posso ospitare fino a 30-40 persone nello stesso momento. Non c'è niente di strano perché ci sono stati dei giorni, per esempio, che il mio studio è rimasto completamente vuoto perché nessuno si è fatto vedere. In altri casi magari eravano un gruppo di vecchi, 30 anche 40 persone. Io non ho mai risultato nessuno perché appunto c'è una ricchezza di rapporti che devi sapere trovare quando succedono queste cose. e noi abbiamo appunto devoluto una parte della nostra mostra e lei quando si è occupata della creazione della mostra ha proprio voluto che ci fossero delle proiezioni, vedrete delle proiezioni, dei video, non solamente dei paesaggi ma anche proprio dei ritratti e delle persone che parlano. Bene, grazie, grazie a tutti voi e grazie soprattutto a e grazie a tutti voi e grazie a tutti voi e grazie a tutti voi. Grazie a tutti.